Noasi in corso 15 del suo mese marzo del suo 2017. Noasi in corso 15 del suo mese marzo 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 del è risultato positivo a questa cocaina. Ai due uomini si usano i denunziati a questa autorità di giudiziaria, pochia illegali, indivisante a retirao i sabattenti e i vetturas a funti basso il sequestro. Cronaca dei Nugisi In su mese a gennaio del suo 2006, in Nugisi, disconnotto, si apposte di divorzato Senna de Valasa del suo barrio Acqua Cadda, ci vunti intrausi in sui locali dei nuindanti furao dei gistecca di sigaretta e di nai in monedasa dei registratori di gascia. I furoncos antivinas e forzau su galascio di una macchina da slot e fura undanti unos 600 euros. I scarabineri si denunzi, si lompius in su logo, antagatau arrasto dei sangoni e ci vunti antimandadas ai laboratori su dei surris de Castello, poesia veriguata tecnica. I nidispassau su laboratorio di biologia dirigio del sudenente Colonello Mammeli a sa capo desanalisi, a confrimao i sui sangoni ed è un omine dei 40 anni su pregiudicato desiliqua a chi muo i funti circendi, po' fura grai. Presoni dei gresiasa, sa presoni dei gresiasa adanta tramudai in centro di arriccita po' migranti, se sa denunzia del sudeputato di Unito, son Mauro Opili. Po' cumprì sa vaina, ti concordavo fin a sa progetto su delle arrastrutturazioni. Esso è un progetto un macco senza sentito, sia ad avvocato per tocca s'apposentata di una struttura in un luogo senza calisisi a servizio, e però posta in una gussorgia con presenza gracca dei domi ruralisi. Tutto gusto a Mauro Opili è sta contessendo in suomodimini per un manno delle istituzioni, si commenti con frima e denunzia a Miasa di gustosannoso e l'ompia sa resposta del suministro della giustizia a un'interrogata a suve saprezoni della Lighera. Traballatori si basso in preo, tambeni dudoso subvenitori occupazionali dei traballatori si basso in preo, che in su sulcisi, funti in uso tante, pertenita a una forma di traballo, nascia in su 2010, di un accordo in tre Stato, regioni e parti sociali, si consintento dei vorrei produttivosi, traballatori si bocauso del suo mondo del suo traballo, gosadori si diamortizzatori sociali, che antipropa sausa, dedere deroga, sa sa regioni agli apposto in su mese ita sa passavo 1 milioni di euro su vostra narrata a missioni 15, programma 0-13. Sa in noi punti postosi, straballatori si basso in preo, i sa resursa sa da sa i antimperata, sa posichi con i sa giudoso, poi mesi si degiennargio, friargio e marzo 2017. De donna manera, sa regioni, no ha tambeni assegurao sa sigita, occupazionali dei traballatori si chi a commenso di aprile, a riscanta desagatta i sena traballo, un po' gusti straballatori si basso in preo, anticoncorda uno presidio, da protesta, po' grasi in castello, a sotto il suo palazzo e del suo consiglio regionali.